Con la chiusura delle scuole e l'inizio delle vacanze, qui nel circondario di Betlemme, le attività organizzate dalle varie istituzioni sono molte e ben organizzate. In particolare i cosiddetti campi estivi, bambini e ragazzi di varietà che lasciano per qualche giorno le comodità della vita quotidiana e della famiglia, per vivere insieme un'esperienza formativa a contatto con la natura. Oggi abbiamo incontrato il gruppo Scout che fa riferimento ai fratelli delle scuole cristiane, un istituto scolastico molto rinomato a Betlemme. Mi chiamo Natalie e vi parlerò della nostra vita in campeggio. Qui viviamo come si faceva tanto tempo fa, senza comodità, automobili, nella vita semplice, e facciamo tutto da soli, montiamo le nostre tende e ciascuno è responsabile di quello che fa. La filosofia educativa tipica degli Scout ha come punto fondamentale il ritorno al contatto con la natura vissuto insieme, nell'austerità di una vita primitiva, nella responsabilità anche dei più piccoli e nella solidarietà del gruppo. Chiamo Murad, siamo venuti qui con gli Scout della Salle. Ogni anno facciamo questa esperienza e sento che questo campeggio cambia tante cose nella nostra vita. Impariamo a controllarci, ad essere responsabili di noi stessi e di quelli che ci stanno intorno. Facciamo poi tante cose concrete, come imparare a fare nodi, a costruire oggetti di legno e altri utensili. Grazie alle diverse attività che svolgono all'interno del campo, i ragazzi imparano a guardarsi intorno con attenzione, per trovare cosa la natura ha da offrire affinché possano costruire da sé degli oggetti utili. I giovani Scout imparano attraverso la vita all'aria aperta e di gruppo a rispettare la natura, rapportarsi con il prossimo e vivere in un ambiente di condivisione e tolleranza reciproca. Mi chiamo Aiza. Volevo dirvi che tra le nostre attività noi costruiamo oggetti di pietra, facciamo delle uscite all'aria aperto, delle camminate nei boschi e tanti tipi di giochi. Mi chiamo Rudolf e faccio parte degli Scout della Salle. Noi partecipiamo a questo campeggio e tra le tante attività impariamo anche a costruire cose come ad esempio questo stendibiancheria fatto di legno. Facciamo tutto da noi, con quello che troviamo in natura. Io penso che tutto questo ci sarà d'aiuto nella nostra vita futura. Per esempio, questo stenditoio è fatto con nodi quadrati, abbiamo legato i pezzi di legno insieme, poi abbiamo messo lo spago. Invece qui abbiamo un focolare, dove i legni sono disposti a piramide e impariamo ad accendere il fuoco, perché quando facciamo delle uscite in mezzo alla natura, dove non c'è nulla, è importante che sappiamo accendere il fuoco. Qui abbiamo fatto una cucina, dove possiamo anche mettere a scolare i piatti lavati. E qui potete vedere che abbiamo costruito una scala da usare sia per la sua funzione, sia per stendere il bucato. Qui invece abbiamo due altri tipi di focolare, a sella e da beduini. Due altri modi per mantenere il fuoco. Quello degli Scout è un movimento indipendente, fondato dal famoso Robert Powell e oggi diffuso in tutto il mondo, che raggiunge 40 milioni di iscritti. Rappresenta una delle più grandi organizzazioni di educazione non formale, che agisce senza distinzione di razza, di religione e di origine sociale, sopra le barriere. Lo si sperimenta in modo particolare in questi luoghi, dove nonostante i muri, che sono tanti, i gruppi Scout di tutte le appartenenze si ritrovano spesso insieme e sono una nota immancabile in tutte le manifestazioni. Mi chiamo Laian. Qui nel campo dobbiamo essere responsabili di noi stessi e delle nostre cose. Al mattino dobbiamo rifare il nostro letto, sistemare la tenda e fare in modo che tutto sia in ordine. È una bellissima esperienza, ma allo stesso tempo difficile. Mi chiamo Laial e devo dire che questa esperienza che sto vivendo all'interno degli Scout è molto bella e mi sta cambiando la vita. Questo perché quando uno entra negli Scout la sua personalità si fortifica. Mi chiamo Laian. Mi chiamo Laian. Ambi l'alba del bai Ushi tani misi rachon Ushi tani misi rachon